E' terminato anche il torneo di FIFA 1 contro 1 e vi presento subito i vincitori Seconda posizione, qui con noi? La torsione Federico Allora dimmi un po' Federico, è stato lunghissimo perché è tardissimo Com'è andato? Ti sei divertito? Si si mi sono divertito ma poi alla fine ero stanco e non ce l'ha fatta più Usala come scusa per dire la prossima volta Valgemigli ti batterò Valgemigli ti batterò Bravo e quindi andiamo a conoscere solitamente sempre lui, primo classificato Perché Davide Valgemigli ha due coppe in mano? Perché ha fatto doppietta Cioè? Vinto ieri con Paul, il mio amico, troppo forte anche Paolo Vabbè, è vinto oggi No cioè davvero, questa ci volevo oggi è stato lunghissimo Lo dico sempre ma è vero, è faticoso, c'erano tante persone veramente brave È stata dura ma alla fine la volevo, questa da ieri che la volevo l'ho prata a casa Quando uno è forte, forte, ci vediamo al prossimo torneo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti